9 milioni di euro per le imprese abruzzesi e dunque anche per quelle aquilane che si trovano in un momento di grande difficoltà, 10 anni della ricostruzione, comunque molte imprese dai dati almeno in nostro possesso hanno qualche problema. C'è un mando ISI 2018. Quali sono gli obiettivi e i destinatari, direttore? Con il mando ISI 2018 che scadrà a maggio di questo anno, l'Inail ha stanziato complessivamente a livello Italia per le imprese ben 369 milioni. Attraverso una ripartizione tra le regioni, quest'anno l'Inail Abruzzo può usufruire di 9 milioni di euro per le imprese abruzzese. L'obiettivo del bando è quello di innalzare i livelli di sicurezza dell'azienda e quindi andare verso la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. I destinatari di questi finanziamenti sono le piccole e micro imprese di tutto il territorio regionale, quindi iscritte anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. I finanziamenti sono a fondo perduto e vanno da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 130 mila euro. In pratica l'Inail va a finanziare complessivamente il 65% del probabile progetto di finanziamento presentato da queste imprese. E a proposito di progetti, quali sono i progetti che sono ammessi a contributo? I progetti che sono ammessi a contributo sono questi. Abbiamo progetti di investimento che è il più generalista, quindi vale a dire l'acquisto di nuove macchine targate CEE e rottamazione di quelle obsolete che chiaramente erano magari fonte di infortuni e di malattie professionali. Rifacimento degli impianti elettrici, rifacimento degli impianti antincendio, quindi questo è il primo filone. Poi ci sono anche progetti, finanziamenti per progetti per l'adozione di sistemi di sicurezza delle aziende. Ci sono progetti per la riduzione del rischio manuale dei carichi, progetti di bonifica di materiale contenente amianto e da un paio d'anni a questa parte c'è anche un progetto dedicato all'agricoltura per le imprese operanti nel settore agricolo dove vengono avvantaggiati anche i giovani imprenditori e questi finanziamenti riguardano l'acquisto di trattori, di nuovi trattori e di nuovi macchinari agricoli. Grazie a tutti.